Oggi vorrei rispondere ad una richiesta che mi viene posta abbastanza di frequente e cioè in quale sequenza sarebbe meglio leggere i miei libri per avere un'informazione più efficace. La questione sarà divisa in due video perché vorrei prima parlarvi di come approfondire l'approccio all'oponopono quindi come entrare dentro questo modo di vivere attraverso appunto un percorso letterario e in un prossimo video invece vedremo una volta appunto approcciati all'oponopono una volta compreso effettivamente cos'è l'oponopono, come funziona e soprattutto in che relazione possiamo essere noi con l'oponopono e con la spiritualità hawaiiana vedremo come approfondire il nostro percorso di vita in sintonia con questa linea di approfondimento. Allora innanzitutto io consiglio sempre per chiunque si approcci a un percorso spirituale di leggere per primo gioco di ruolo. Gioco di ruolo che è il report gratuito che io do a chiunque si iscriva alla mia mailing list a chiunque si sottoscriva alla sua partecipazione al mio blog www.giovannagarbuio.com Si tratta di un libretto appunto avete visto che è abbastanza sottile una ottantina di pagine in cui ho cercato di sintetizzare come funziona il meccanismo in cui siamo immersi. Secondo me questo libro è la premessa direi quasi indispensabile per qualunque tipo di percorso di approfondimento spirituale per qualunque ricerca spirituale efficace perché definisce proprio come funziona il meccanismo in cui siamo immersi. Da questa premessa poi possiamo prendere la strada pratica che vogliamo in quanto questa premessa è quello che accomuna tutte le dottrine. Una volta compreso come funzionano le cose se appunto la nostra intenzione è quella di approfondire l'Hoponopono il mio consiglio è a seconda del tipo di impegno che vogliamo metterci i libri che consiglio subito dopo sono questi due Il viaggio di Maui e Hoponopono occidentale Il viaggio di Maui è un librettino vedete anche questo molto poco impegnativo è un libretto scritto con Rudy Carone e Francesca Tuzzi per bambini in realtà però ci siamo accorti che è un libro per bambini che piace moltissimo agli adulti è una favola, una fiaba, è tutta un'invenzione nostra diciamo così però a tutti e tre piace pensare che più che una favola sia effettivamente una testimonianza una testimonianza di come ci muoviamo all'interno appunto di questo meccanismo che abbiamo visto nel libretto gioco di ruolo questo è un approccio all'Hoponopono diciamo soft è un libro facile che si legge fluidamente senza grossi impegni intellettuali che però effettivamente dà tutte le informazioni necessarie e sufficienti per un bel percorso efficace all'interno dell'Hoponopono chi invece fosse interessato più a una lettura di un saggio questo, l'Hoponopono occidentale che invece comincia ad essere un po' più impegnativo contiene tutto quello che c'è da sapere sull'Hoponopono e sulle varie pratiche dell'Hoponopono perché Hoponopono è un concetto è un modo di approcciarsi alla vita sappiamo bene che in Hawaii ogni famiglia ha la sua pratica di Hoponopono in questo libro appunto ho cercato di analizzare non solo i fondamenti dell'Hoponopono generici ma anche di presentare quelle che sono le pratiche più diffuse in Hawaii fino ad arrivare alle pratiche che si sono diffuse nel resto del mondo chi volesse approfondire ulteriormente vi dico già che ogni libro è completo in se stesso sono tutti percorsi che arrivano a dare al lettore uno strumento efficace per lavorare sulla propria vita comunque chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente io consiglio questo tutte le strade portano all'amore questa è una ricerca a cui tengo veramente molto è un libro a cui sono molto legata anche perché ho voluto fortemente che venisse pubblicato e che venisse pubblicato nella forma in cui appunto lo vedete e lo potete leggere è una ricerca dei fondamenti dell'Hoponopono all'interno delle dottrine più diffuse quindi sostanzialmente io ho preso le sacre scritture più note quindi ovviamente la Bibbia, il Corano, la Bhagavad Gita, il Tao i vari sutra buddhisti, i vari libri dei morti tutte, un po' tutte le sacre scritture che sono riuscite a trovare e ho cercato all'interno di queste dottrine chiamiamole alternative o diverse ho cercato la presenza dei fondamenti dell'Hoponopono e guarda caso li ho trovati a riprova che la verità è una ed è stata comunque a portata di tutte le società detto questo se ancora siete interessati ad andare avanti su questo cammino il libro successivo da leggere secondo me è questo ricomincio da me che è un libro che è focalizzato sullo strumento pratico quindi parla di gratitudine, di non giudizio, di perdono, di benedizione proponendo queste modalità, questi strumenti come strumenti appunto di riarmonizzazione o in gergo Hoponopono di pulizia efficaci e a portata di mano di tutti li appunto analizza e li propone come strumenti utilizzabili in ogni momento per recuperare l'armonia che ci pare di aver perduto in quel momento ma anche per un lavoro duraturo quindi se ancora non siete soddisfatti o comunque se la vostra curiosità somiglia alla mia per cui siete ricercatori in viaggio sempre in movimento e mai arrivati il successivo è questo questo non posso dire che sia un punto d'arrivo nel senso che un punto d'arrivo se siamo ancora su questa terra e respiriamo significa che non l'abbiamo ancora raggiunto ma è una consapevolezza a cui possiamo arrivare appunto attraverso un percorso soffrire non è necessario è un libro che consiglio vivamente semplice non è un libro molto impegnativo vedete che non è molto copioso come contenuto ed è a mio avviso un testo importante che ci aiuta proprio a riappropriarci definitivamente dell'armonia che è la nostra reale identità quindi per concludere la carrellata quasi perché ne ho ancora due per concludere la carrellata quello che diventa un po' l'elemento pratico di tutto il percorso fatto attraverso questi testi è il manuale essenziale cioè una carrellata proprio di situazioni pratiche di situazioni con cui ci troviamo ad avere a che fare nella nostra vita quotidiana affrontate con lo strumento di Ho'oponopono ma soprattutto dal punto di vista della consapevolezza di Ho'oponopono quindi se volete concludere questo viaggio in maniera profonda il testo finale è questo Omana questo è un testo impegnativo sono mi pare 500 pagine più di 500 pagine in cui è contenuta la sintetizzazione di tutta la spiritualità huayana non esiste un libro così completo sulla spiritualità huayana in nessuna lingua del mondo non fosse altro che perché la spiritualità huayana e la saggezza huayana è una dottrina che è rimasta orale fino all'inizio fino alla fine del 1800 fino all'inizio del 1900 per cui gli huayani stessi non hanno prodotto gran letteratura sulla loro spiritualità questo è un testo che c'è costato dove costato non comporta un vero sforzo perché l'abbiamo fatto gioiosamente ma è stata una ricerca importante che è durata anni e che ci ha portato appunto a mettere insieme le pratiche della spiritualità huayana in maniera organica e in maniera il più il più semplice possibile e il più immediato possibile come come tipo di trasmissione appunto è un testo importante è un testo che consiglio a chi fosse interessato ad approfondire in maniera importante la sua conoscenza della saggezza huayana direi che per oggi possiamo chiuderla qui in un prossimo video vi illustrerò l'ulteriore percorso con con gli altri libri che ho scritto che da questa consapevolezza non prescindono nel senso che partono tutti da da queste permesse sono però approfondimenti in altre direzioni che appunto vedremo meglio in un prossimo video vi ricordo assolutamente di iscrivervi al canale e di cliccare sul campanellino per essere sicuri di venire avvisati di ogni nuova pubblicazione vi saluto e vi abbraccio e vi auguro una splendida giornata ciao ciao